Qualcuno ha visto le gambe dei due bambini letteralmente tranciate. Uno di loro è morto quasi all'istante, l'altro lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione pediatrica di Messina dopo essere stato sottoposto durante la notte ad un disperato intervento chirurgico. La tragedia ieri sera a Vittorio è intorno alle 21. Dinanzi all'uscio di un'abitazione in via 4 Aprile, angolo via Gaeta, seduti sui gradini ci sono due bambini intenti a conversare e a giocare con il cellulare. All'improvviso su di loro si abbatte con la forza di un'arma da guerra un SUV che procede ad alta velocità. I due cuginetti, entrambi di 11 anni, non hanno scampo. Le loro gambe tra la coscia e il ginocchio subiscono un effetto tagliola di inaudita violenza a causa anche dello scoppio dei pneumatici. Il cerchione ha tranciato di netto le gambe dei due ragazzini. Per uno dei due non c'è scampo. Alessio D'Antoni, 11 anni, muore praticamente sul colpo. L'altro cuginetto lotta disperatamente contro la morte. Viene subito trasferito all'ospedale Guzzardi di Vittoria dove i sanitari dell'emergenza possono solo stabilizzarne le gravissime condizioni e trasferirlo in elisi occorso in un centro specializzato dopo 5 ore di intervento. Panico, tensione, indignazione tra i numerosi presenti, accorsi sul luogo dell'incidente fin dall'istante in cui l'impatto ha richiamato l'attenzione. Il SUV è piombato ad alta velocità sulle vittime innocenti di questo crimine stradale e una Jeep Renegade alla cui guida c'era un uomo di 37 anni di Vittoria fuggito a piedi subito dopo l'impatto letale. A bordo altre tre persone allontanatesi anch'esse ma presentatesi spontaneamente ai carabinieri che li hanno condotti al commissariato dove hanno riferito l'accaduto e spiegando di essere fuggite per paura di essere linciate dai parenti dei bambini. Il conducente è stato invece identificato e rintracciato dalla polizia. È stato immediatamente sottoposto dal coltest per accertare se si fosse posto alla guida in condizioni di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo è noto alle forze dell'ordine e Rosario Greco, noto come Saro, con precedenti per favoreggiamento. Nella notte è stato arrestato per omicidio stradale. L'esito dell'alcoltest ha riscontrato un tasso alcolemico quattro volte superiore il livello consentito e l'uso di sostanze stupefacenti. Secondo le testimonianze dei presenti, il SUV procedeva ad alta velocità lungo via 4 Aprile, parallela di via Ruggero VII, che consente un più facile accesso al centro partendo dalla zona dello stadio. Ma non sono poche le auto che la percorrono a velocità sostenuta. Lo schianto omicidio è avvenuto in via 4 Aprile, nel tratto compreso tra via Ancone e via Gaeta. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Greco avrebbe perso il controllo del SUV durante una manovra azzardata di sorpasso ad alta velocità lungo una strada stretta che impone bassissimi limiti di percorrenza. Nel SUV sono stati rinvenuti uno sfolleggiante telescopico ed una mazza da baseball. Rosario Greco deve rispondere anche di detenzione di oggetti atti ad offendere. Gli altri tre occupanti del veicolo sono stati denunciati per omissione di soccorso e favoreggiamento personale. Il bambino morto e quello ferito hanno avuto le gambe letteralmente tranciate dall'impatto del SUV. Sono due cuginetti, figli di due fratelli, sono due cuginetti, figli di due fratelli, che nell'ultimo anno scolastico hanno frequentato l'istituto comprensivo Portella della Ginestra.